Un saluto da Jack Bonora. Ho letto nei giorni scorsi la notizia delle dimissioni di Roberto Mancini dalla Nazionale di Calcio italiana e oggi arriva praticamente la conferma che Mancini diverrà allenatore della Nazionale dell'Arabia Saudita per un ingaggio che viaggia attorno ai 30 milioni di euro. Io amo sempre valutarmi con gli occhi di altre persone, come se mi guardassi con occhi di un altro. Non è un gran spettacolo, lo so benissimo, però lo faccio perché cerco di essere il più obiettivo possibile. Beh, intanto faccio la premessa doverosa che Mancini è stato un mio idolo perché l'ho visto esordire quando aveva 16 anni in maglia a Bologna nel 1981. Poi purtroppo è diventata una stella non del mio Bologna ma del calcio italiano, europeo e potrei dire anche mondiale, ma l'avrei tanto voluto vedere in maglia rosso-blu. Vabbè, andò come andò. Rimane il fatto che 16enne letteralmente ci incantò. Come scelta, cari signori, la domanda è banale. Preferisco allenare la Nazionale del mio paese guadagnando comunque tanto, in considerazione del fatto che sono già ricco, tra parentesi, e non ricco, molto ricco nel caso di Mancini, perché mi dicono che ha investito anche molto bene a livello imprenditoriale, oppure preferisco allenare la squadra di un altro paese e guadagnare una cifra esorbitante. E questa è una scelta assolutamente personale. Spesso si dice, beh va bene, ma vai in Arabia, qui del calcio frega poco alla gente, sono a un livello inferiore al nostro. Occhio, perché se continuano a prendere giocatori in questa maniera, non ci mettono mica tanti anni a diventare superiori a noi, perché noi continuiamo a dire, noi italiani siamo più bravi degli arabi a giocare a calcio. Sì, sì, questo è innegabile, ma c'è un piccolo problema, che se vai a vedere Bologna-Milan, in campo su 22 giocatori, 21 erano stranieri. Quindi dove sono tutti questi italiani che giocano? Cosa combina questa nazionale italiana, che forse anche per colpa di Mancini ha recentemente fallito qualche prova? Poi ha vinto gli europei del 2021, certo, grande festa. Ricordatevi però che si è vinto poi con i calci di rigore in più occasioni, perché noi abbiamo dato dei giudizi su degli allenatori sconfitti, spesso per dei calci di rigore sbagliati, 90, 94, 98. Poi abbiamo matuto l'Olanda e il rigore agli europei, tanto per ricordare, ma abbiamo vinto un mondiale con i calci di rigore. Quindi il problema è che spesso giudichiamo un allenatore vincente o perdente in base al fatto che i suoi calciatori realizzino dei calci di rigore. Detto questo, Mancini era sulla panchina della nazionale che ci ha regalato questo bellissimo europeo due anni fa, poi innegabilmente, lo sappiamo, ha fallito. Mi fa non un po' sorridere alle giustificazioni. Io non posso entrare nelle pieghe veramente di cosa sia successo. Diciamo che queste dimissioni sono state abbastanza frettolose, forse opinabili, e oggettivamente per motivi morbidi. Quando banalmente sarebbe bastato dire, guardi, caro Presidente, io voglio tanto bene al mio paese, voglio tanto bene all'Italia, ma di là mi offrono sei volte tanto e io ogni anno faccio un sei al super enalotto. Mi lasciate andare. Invece tirare fuori queste scuse fa un po' sorridere, no? È come se una donna trova Brad Pitt che si innamora di lei e poi viene a sindacare su dove tu mettevi le pantofle, a parte che a volte lo fanno lo stesso. Ma a viceversa, chiaramente, se un uomo trova una donna bellissima che poi venga a sindacare con la moglie e si ha messo abbastanza sale nel sugo, insomma, sembrano delle scuse risibili. È come dire, beh, vabbè, quando c'è un'altra persona, vale per l'uomo, ma per la donna, ecco che di punto in bianco si vanno a cercare le scuse per rompere. Ecco, mi sembra esattamente che Mancini abbia fatto la stessa cosa, vista da fuori, abbia cercato le scuse per rompere. Poi vi potrete dire, arriva Brad Pitt per una donna, non può resistere, arriva Megan Fox per un uomo, non può resistere, oggi forse si può dire, arriva la nazionale araba con 30 milioni all'anno, non si può resistere. Pecuniano no, diceva Vespasiano, non c'era bisogno di Roberto Mancini per ricordarcelo. Detto questo, grazie per avermi fatto sognare in maglia a Bologna, è 42 anni fa, grazie per l'europeo, grazie di tutto, però evidentemente Mancini ha scelto i soldi rispetto alla nazionale del suo paese. Io cosa avrei fatto? Eh, sarei stato molto incerto. Comunque aveva ragione Vespasiano, pecunia non ho letto.